intanto appena possibile comunicheremo tutti i tempi ufficiali della quinta e quarta serie intanto siamo in acqua con la terza presentiamo la seconda in corsia uno Lucas Johan Vandermeer in due Andrea Bedon in tre Riccardo di Domenico in quattro Nicola Bragania cinque Gianmarco Sansone sei Robert Frank Leroux sette Callen Thomas otto Lorenzo Menegaldo